video di recensione di questa batteria esterna aukey aukey è una ditta che produce accessori di qualità l'abbiamo già visto con il pacchettino, la custodia carino il fatto che ci sia anche la taschettina per portare lo stesso cavo è sottilissima allora per farvi vedere le dimensioni la metto vicino al mio Note 4 è esattamente simile al Note 4 solo chiaramente più piccola eccolo qua, la metto sopra il Note 4 vedete che è più piccola del Note 4 la batteria esterna cosa vuol dire? questa è un power bank, una riserva di energia sempre con voi c'è un pulsante innanzitutto la quantità di energia è questa 8000 mAh che è tantissimo se pensate che i nuovissimi iPad non ci arrivano a 8000 mAh che hanno veramente super batterie o che il mio Note 4 può essere ricaricato da zero per ben due volte l'attacco al power bank e sono in grado di caricarlo da zero lo finisco ancora e lo ricarico da zero per l'iPad ci vuole il cavo suo invece qui c'è il cavetto, quello con la micro USB quella che di solito si usa per caricare tutti quanti i telefoni mentre nel caso di iPhone avrete bisogno di usare proprio il cavo iPhone collego non c'è il simbolo del telefono che si sta caricando bisogna attivarlo e lo attiviamo premendo questo pulsantino premo il pulsantino vediamo che lampeggiano qua i led meglio, ok? qui abbiamo quattro led che indicano tre quarti carico al 75% il mio telefono ha cominciato a caricarsi è al 46% il mio Note 4 si sta caricando come si ricarica questa batteria esterna basta prendere la micro USB e collegarla e prendere il cavo e metterlo in un caricabatterie quello che normalmente utilizziamo per i telefoni garanzia e servizio 18 mesi di garanzia pezzo 19 euro 99 spedizione gratuita vedete che in 3-5 giorni lavorativi potete avere la spedizione gratuita nei punti di ritiro o 5 euro di spedizione in 2-3 giorni lavorativi se no ci sono delle opzioni di pagamento più costose per averle il giorno dopo in un giorno a 8 euro vedete per gli utenti prime cioè quelli che hanno una specie di abbonamento c'è a 3,98 euro vi ricordo che per vedere tutti i dettagli del prodotto c'è il link in descrizione mi raccomando come sempre un italico polish in su